buongiorno a tutti oggi siamo a sala capriasca per presentarvi questo 4 e mezzo locali siamo al quinto piano di questa palazzina entrando all'interno dell'appartamento veniamo accolti da questo corridoio molto lungo sulla sinistra dell'ingresso troviamo immediatamente questo armadio a muro procediamo e sulla destra troviamo subito la prima stanza una stanza ben illuminata proseguiamo ancora mantenendo sempre la destra arriviamo in cucina una cucina molto spaziosa e ben arredata composta di frigorifero congelatore piano cottura in vetro ceramica forno lavabo e lavastodini attraverso questa porta finestra possiamo accedere ad un primo balcone ritorniamo ora nel corridoio e sulla parte sinistra abbiamo la seconda stanza ecco l'ingresso e in fondo al corridoio troviamo questo disimpegno sulla parte destra i due servizi ecco il primo bagno un bagno di servizio composto di specchiera lavabo vc alla sinistra del primo bagno il secondo bagno composto sempre di specchiera lavabo una comoda vasca vc e sulla parte destra possiamo notare gli attacchi per lavatrice o subatrice o per chi volesse anche un bidet ecco che sulla sinistra del secondo bagno abbiamo la terza e ultima stanza la stanza padronale concludiamo la nostra visita nell'area del soggiorno un'area grande con queste finestre che fanno entrare molta luce e attraverso questa porta finestra possiamo accedere ad un secondo un secondo balcone che ci regala una vista magnifica se vi è piaciuto questo appartamento e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 00 41 91 921 24 28 ti affitto